E vai! Taglio del nastro per il nuovo bar dell'ospedale Grassi. Sì, oggi siamo qui, inauguriamo la ristrutturazione del nuovo servizio che diamo per i pazienti come punto d'accoglienza e di ristoro. È un momento importante e significativo. L'importante è perché abbiamo fatto una gara, è stata vinta, dove sono state previste delle migliorie a carico dell'azienda, dove l'Asa Roma 3 incassa per la concessione 130.000 euro l'anno che sono ovviamente riversati, che saranno riversati sulle cure per i pazienti. È un momento anche simbolico, perché questa è la riqualificazione che sta subendo l'Asa Roma 3 in questi anni. Basta pensare alla Casa della Salute di Palidoro, basta pensare al bar, basta pensare al progetto quasi in via definitiva del nuovo ospedale Grassi. Un evento storico alla quale la regione Lazio, rispetto al quale la regione Lazio, ha sanziato 56 milioni di euro. Vogliamo che sia un progetto importante, che faccia fare il salto di ugualità e che sia condiviso dalla città di Palidoro.